ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video anche oggi un video tema riorganizzazione e sistemazione stavolta in bagno andremo a montare il mobietto che avevo preso tempo fa la Lidl e insieme metteremo a posto tutti gli asciugamani e le cose che servono più che altro un bagno così essendo già in bagno anche gli asciugamani è più comodo prenderli ogni volta che servono insieme a tutti gli asciugamani e insieme a tutti gli asciugamani e insieme a tutti gli asciugamani insieme a tutti gli asciugamani e insieme a tutti gli asciugamani e insieme a tutti gli asciugamani insieme a tutti gli asciugamani insieme al batteri e insieme a tutti gli asciugamani insieme a tutti gli asciugamani rồi Grazie a tutti. 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 Ecco qua, questo è il mobiletto montato, ora andremo a dargli una pulita e a sistemarlo insieme. Andremo a prendere tutti gli asciugamani che avevo precedentemente in camera da letto nell'armadio e andremo a piegarli bene e metterli qua. Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. ho messo i tappi, ho messo i tappi, ho messo i tappetti e le cose un po' più alte che non ci stavano nei mobili e la lavatrice. Spero come sempre che vi faccio i tappi, ho messo 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 i tappi.